ciao sta per iniziare un nuovo format dell'apport nel quale io e tre portieri professionisti saremo i protagonisti mi vado a presentare sono Gianmarco Cortiula e sono un portiere insieme a due amici ho creato un canale youtube e una pagina instagram che vantano più di 17.000 iscritti ciascuna nei quali andiamo a trattare tutti gli articoli che riguardano il ruolo del portiere per cui dopo anni di valutazioni posso dire che effettivamente i guanti sono l'unica cosa che per me non ha più segreti o quasi da oggi inizio a collaborare con l'apport in questo nuovo format dal nome 4 recensioni all'interno del quale con cadenza mensile vi porteremo la recensione di un paio di guanti fin qui tutto normale tutto nulla di particolare direte voi ma la figata di questo format sta appunto nel nome 4 recensioni perché la valutazione del guanto non verrà eseguita solo da sottoscritto ma come vi dicevo in precedenza sarà affiancato da tre portieri professionisti dei quali per però non verranno svelati i nomi per motivi di privacy però sentirete le loro voci che vi racconteranno le loro impressioni all'interno dei video detto questo non vi resta che augurarvi una buona visione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti